Ciao, bambini! Oggi impareremo i numeri. Uno, 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 uno come un pino, alto, snello e verdino. Due come il bue, attento alle corna sue. Tre come il treno che sfreccia senza treno. Quattro come il gatto nero un po' distratto. Cinque come la cicoria che danza senza vergogna. Sei come la sedia che sempre si rimedia. Sette come il secchio, se lo agli è come uno specchio. Otto come gli occhiali, toni è un po' speciali. Nove come la noce che se la mangi fa bene la voce. Zero come l'acqualeo che non ci sono pesciolini. Bravissimo Federico! Bravo, bravo, bravo! Saluta, mamma! Saluta prima! Ciao, ciao!